Un nuovo appuntamento con i nostri consigli di lettura. Tra le righe ritorna anche questa settimana, bentrovati a tutti e oggi vi portiamo almeno idealmente in collegamento Skype a Rem Notre Dame in Valle d'Aosta nel monastero dove c'è un monaco che ha scritto delle riflessioni in tempo di pandemia, riflessioni che sono diventate un ebook edito dalla San Paolo. L'ebook si intitola a bassa voce e lui è fratel Michael Davide. Bentrovato, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi dell'invito, grazie. Come ci dicevamo prima a microfoni spenti, quello che abbiamo vissuto in questi mesi appunto di isolamento domiciliare e di quarantena è un po' quello che i componenti di una comunità monastica vivono quotidianamente, quindi sarete abituati un po' di più al distanziamento sociale, all'isolamento, al silenzio rispetto, come dire, a noi che corriamo tutto il giorno, a volte anche senza significato. Fratel Michael Davide, come nascono queste riflessioni a bassa voce, queste riflessioni in tempo di pandemia? Ma nascono in modo molto semplice, direi, a margine di quella che è un'occupazione quotidiana di un monaco qualunque, la lezione divina. È chiaro che la meditazione quotidiana della parola di Dio si sposa sempre e da sempre, sia con quelli che sono i turbamenti, le emozioni, le gioie interiori della vita di un monaco, ma anche con quanto la gente vive attorno al monastero. Quindi viene abbastanza facile, direi, per un monaco mettere insieme la meditazione della parola di Dio e la meditazione di quelli che sono i segni dei tempi, di ciò che la vita ci chiede di interpretare come si fa con la parola di Dio. E quindi queste riflessioni sono nate a margine della lezione divina, quasi un passaggio naturale dalle scritture alla vita. E certamente la pandemia è stato, è ancora, un segno dei tempi molto forte che esige di essere letto con sapienza, con fede, con speranza. Lei come legge questo segno dei tempi? Che lettura ne ha dato? Ma direi che fondamentalmente, prima di tutto, è una memoria. La memoria, diciamo, che forse avevamo dimenticato il fatto che siamo tutti creature fragili e vulnerabili. Penso che ciò che ha scioccato soprattutto noi occidentali è che veramente c'eravamo convinti che non potesse capitare a noi, non potesse capitare a noi una cosa del genere. Dobbiamo ricordarci che nello tsunami del 2004 sono morte 250.000 persone, di cui 60.000 bambini. Ma riguardava un luogo lontano da noi, non poteva succedere a noi. Ed è chiaro che questa pandemia, veramente vissuta per la prima volta in modo universale, planetario, ci ricorda che siamo tutti umani, ma quando diciamo questa parola umani, lo diciamo quasi come un privilegio, ma umani viene da humus e quindi essere umani significa ricordarsi della nostra fragilità e della grande sfida che sta nelle nostre mani di diventare degni della nostra umanità sapendo dare il meglio di noi stessi. Certamente questo tempo di prova è anche una prova per vedere quanto siamo all'altezza della nostra vocazione di umanità in condivisione con tutta l'umanità. Lei parla di giubileo dell'umanità. Abbiamo vissuto il giubileo della misericordia straordinario indetto da Papa Francesco nel 2016, il giubileo del 2000. Lei parla di giubileo dell'umanità. Che cos'è? Che cosa intende per questo giubileo dell'umanità? Non so se mai succederà perché questo non dipende da me, dipenderebbe eventualmente dal Santo Padre. Ma quando dico il giubileo dell'umanità mi sembra che sarebbe molto bello che proprio il Papa, il Vescovo di Roma che ha indetto Giovanni Paolo II il giubileo del 2000, Papa Francesco il giubileo della misericordia, normalmente più all'interno della Chiesa, il giubileo dal 1300 in qua è un'esperienza intra ecclesiale per così dire, vissuta al cospetto dell'umanità ma come esperienza della Chiesa. E sarebbe bello pensare un giubileo dell'umanità per l'umanità intera, quindi magari indetto da Papa Francesco ma in comunione con tutti i capi religiosi del mondo, con tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Perché un giubileo? Perché il giubileo ha sempre due aspetti. Quello del riconoscimento delle proprie colpe, delle proprie responsabilità, delle proprie omissioni è una sorta di impegno rinnovato a mettere insieme le forze migliori per volersi più bene e anche per custodire la casa comune che è il mondo che abitiamo e su cui abbiamo una grande e grave responsabilità. Ecco a proposito di questa grande e grave responsabilità, a conclusione delle sue riflessioni, lei dà al lettore un compito a casa. Quale? Ah beh quello di rileggere dopo cinque anni, di rileggere, non solo di rileggere ma di meditare e in certo modo anche di farsi esortare dall'encicla di Papa Francesco Laudato Si che in realtà ha creato molti problemi a Papa Francesco perché ci sono stati alcuni che a partire dalla pubblicazione dell'enciclica, per così dire, per intenderci, gli hanno dichiarato una guerra abbastanza feroce. In realtà questo testo riletto dopo cinque anni alla luce di quello che stiamo vivendo in queste settimane si rivela non solo profetico ma anche un testo che può dare delle intuizioni anche molto concrete per poterci realmente convertire all'attenzione e alla cura. E questo compito, come già Papa Francesco dice nella Laudato Si, è un compito a casa per la custodia della casa comune che possiamo fare in comunione non solo tra cristiani, tra cattolici, tra credenti ma veramente con tutti gli uomini e le donne dispersi nel mondo. Quando l'emergenza sanitaria in qualche modo è rientrata, sta rientrando, però intravede una luce in fondo al tunnel nel senso che quando tutto questo sarà finito, quando magari ritorneremo alle nostre cose quotidiane di ogni giorno con i pensieri, con le corse, con il consumo a volte anche sfrenato di quello che è intorno. Ripenseremo a quello che abbiamo vissuto, questa situazione ci cambierà, ci ha già cambiati oppure ritorneremo indifferentemente a quello che eravamo una volta? Che lettura può dare a questo? Io penso che questo dipende molto da noi. Noi umani abbiamo due capacità, una capacità immensa di ricordare come pure una capacità immensa di dimenticare. Io penso che quando si parla di prima e dopo, in questo caso prima e dopo la pandemia, penso che si faccia un piccolo errore perché il prima e il dopo acquista un senso ed ha anche, diciamo così, un contenuto di direzione, di speranza, solo se si è capaci di leggere l'attraverso, cioè quello che abbiamo vissuto proprio in questo tempo di vulnerabilità e se siamo capaci di imparare dalle cose che abbiamo sofferto in prima persona e dalle sofferenze delle persone accanto a noi, allora potremo anche costruire, sognare direi quasi, un dopo che non è semplicemente il ripristino del prima, ma è un incremento di intelligenza e una crescita reale in umanità in termini di condivisione e di compassione. Una cosa mi sembra abbastanza certa, la sofferenza non ci lascia mai uguali a noi stessi. Nello stesso tempo sta a noi lasciare che la sofferenza ci renda migliori o talvolta ci renda purtroppo anche peggiori. E questo penso che è il grande impegno di intelligenza e di scelta che riguarda ciascuno e le comunità piccole e grandi di cui facciamo parte. Ecco, bene, io vorrei ricordare il titolo del suo ebook, basta andare sul sito della San Paolo e troverete tutte le indicazioni, poi speriamo di poterlo avere stampato, così da poterlo leggere in formato cartaceo, così come mi piace leggere libri. Poi ci sono anche quelli a cui o cartaceo o ebook fa poca differenza. E allora, vediamo la copertina in sovraimpressione, a bassa voce, bella anche l'immagine di copertina che è stata scelta. Riflessioni monastiche in tempo di pandemia, riflessioni edite dalla San Paolo, firmate da fratello Micael Davide, che ringraziamo per essere stato con noi per queste riflessioni, così anche se sono riflessioni, come dire, tramite Skype, però sono certa che hanno raggiunto il cuore e in profondità coloro i quali ci stanno seguendo. Grazie davvero di cuore e un saluto a tutta la tua comunità. Grazie a voi tutti e buon cammino. Grazie.